Dottore Maurizio Domanti è il responsabile del team per le vaccinazioni a San Giacomo d'Alto Passo. Oggi seconda dose, c'era l'attesa anche perché, spieghiamolo, è dalla seconda dose che il vaccino comincia a produrre gli effetti sperati. Sì, dopo una settimana della somministrazione della seconda dose diciamo che siamo ben coperti per eventuali infezioni. Però bisogna sempre portare la mascherina perché purtroppo anche che siamo vaccinati il virus lo possiamo sempre prendere e lo possiamo trasmettere anche se noi non già ammaliamo visto che siamo già vaccinati. Quindi questo è importante. 70 tra medici, infermieri, operatori sanitari del San Giacomo d'Alto Passo hanno ricevuto la prima dose il 2 gennaio. Oggi, nella giornata di oggi o già tra oggi e domani si concluderà con appunto il richiamo. Sì, finalmente diciamo stiamo facendo la seconda dose, però adesso è importante che anche arrivano altre dosi per vaccinare tutto il paese perché è fondamentale vaccinare più persone possibili per evitare la trasmissione del virus.